Melog 2.0 Questo è un momento, come dire, ad alto contenuto erotico. Tu conosci il burlesque? Non ho la minima idea di chi si parla. Allora, il burlesque è un'arte, l'arte di sedurre, con ironia, togliendosi i vestiti. Ti faccio vedere, mi tieni i cartoncini un attimo? Sì, sì, assolutamente sì. Duccio Forzano. Ho nascosto qui una giuarrettiera. Aspetta che cado. Sì, sì, manteniti. Hai capito? Ammazza. Non è proprio così, insomma, però. E sai chi è la regina del burlesque? No. No, assolutamente no. Guarda, lei è conosciuta nel mondo come appunto la regina del burlesque e rivendica il glamour come stile di vita. Senza le sue calze di seta e il suo rossetto rosso fuoco dice di sentirsi nuda. Se lo dice lei, crediamoci. Celebre appunto la sua performance in cui si è presentata sul palco indossando nient'altro che i diamanti per il valore di 3 milioni di dollari, mica uno scherzo. E lei la star dello spogliare del riononico seducente, la famosa sexy pin-up. E con noi Dita Von Tis. Questo è stato il momento clou su cui mi provocò Marta Cagnola. Dita Von Tis, la regina del burlesque, si è presentata sul palco di Sare. Questa signora, introdotta da un tentativo goffissimo di imitazione della clerici che traballando su quei tacchi altissimi, stretta nel suo bustino taglia 42 che è sotto le sue reali misure di almeno 3-4 taglie, ha cercato di fare un gesto sexy appoggiandosi su Cassano che sta vicino a lei. Cioè doveva sfilarsi una giarrettiera. In realtà il gesto è stato totalmente goffo che si è infilata la manona sotto le gonnone, ha ravanato tra le coscione, ha tirato fuori questa sorta di straccio rosso il cui diametro era di almeno 70 centimetri. E l'ha tenuto per tutto il tempo dell'esibizione della regina del burlesque per le mani. Chi entrava nell'inquadratura senza aver visto lo sfilamento della giarrettiera pensava che avesse uno straccio da spolvero in mano o le mutande impruisamente cadute o qualcosa del genere. Quindi era totalmente antitetico ad ogni erotismo. Ma parliamo un attimo della Fontise. È una signora molto ammirevole dalle forme splendide che poi ai signori di una certa età come me ricordano i fasti delle gioventù lontane e degli ardori ormai a me soppiti. È meravigliosa, balla, si spoglia lentamente, polposissima, carnosissima, entra dentro un grande bicchierone di champagne, si spreme un'olivona di gomma piuma e si schizza tutta addosso con l'olivona. Insomma, è quella che nelle mie orrende oscene e brutali contrade chiamano ciccia da pippa. Non lo dirò mai più. Ma cosa c'entrava a quel punto dentro il festival di Sanremo?